In una situazione in cui si trova a molti cantini del basketball, di solito ci sono due strade. O si esonera l'allenatore, o si fa quadrato intorno alla squadra e si cercano rinforzi a tutto spiano. La società Rosobulu ha optato per la seconda strada, senza se e senza ma, senza alcun indugio. Confermando la fiducia, senza che ce ne fosse bisogno, accorcia Toffoni allo staff tecnico e cominciando a rastrellare il mercato, cercando il giocatore giusto che possa alzare la qualità del quintetto. Perché in questo momento Montecatini ha bisogno di qualità, ha bisogno di punti nelle mani, ha bisogno di un giocatore che cambi il volto di una squadra che sembra essersi infilata in un abisso. La sconfitta di Siena, la nona nell'ultime dieci partite, ha fatto sprofondare Montecatini ancora di più in zona play-out, ma soprattutto ha affossato ancora di più le poche certezze che aveva la squadra termale. Una partita praticamente dominata fino a metà del terzo quarto e poi sfuggita di mano, come se fosse un brutto incubo. Domenica al Palatermi arriva il falino di Coda a Domodossola, squadra che ha vinto una partita su 23. Montecatini ha ovviamente il pronostico dalla sua parte, ma in questi casi i blocchi mentali che si formano, la paura di vincere, le incertezze, la sfiducia dei propri mezzi, possono essere avversari molto più pericolosi e molto più potenti di una squadra che ha vinto una sola partita. C'è bisogno di vittoria, c'è bisogno di fiducia, c'è bisogno che il pubblico sostenga la squadra, ma mai come in questo momento la società ha fatto quadrato intorno ai ragazzi, intorno allo staff. Ne usciremo tutti insieme da questa brutta situazione a caccia della salvezza, ha dichiarato il presidente Cardelli. E c'è da credergli. Da Montecatini, Raffaello Di Maio.